Buonasera, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di una... è uno sfogo, iniziamo con questo presupposto, è uno sfogo. E sono molto arrabbiato, cioè almeno questa cosa me la tengo dentro. Ne ho già parlato con qualche mio amico, ho avuto qualche confronto, quant'altro così. Sulla Nazionale del 21, questa è la seconda scelta che avevo, se vi ricordate quello che ho detto nello scorso video, che avevo due scelte, un video o un altro, in base a come andava la partita. Tra Francia e Romania, biscottone, ma era ovvio, era scritto, ed è normale che sia così. Perché comunque, che cazzo loro hanno da giocare. Bene, partiamo su Di Biagio. Chi è Di Biagio? Di Biagio è stato il commissario tecnico dell'Italia, Under 21, per fortuna è stato, perché se l'hanno buttato fuori, finalmente l'hanno capito dopo 4-5 figure di merda, però almeno l'hanno capito, ci mettono un po' di italiani a capire certe cose. Scusate se non mi guardo in faccia. Siamo partiti con questa spedizione, con grande ambizione, perché comunque conteneva un sacco di giocatori interessanti, tra cui Bastoni, Mancini, Pellegrini, Chiesa, Orsolini, Ken, Cutrone, Meret, anche Audero, lo stesso a Japong. Erano giocatori interessanti, interessanti da vedere. Chiesa è il giocatore più forte di questo Under 21, in generale, tra tutte le nazionali. Sevaios e lui, buon fine, gli altri, forse Urguar del Lione, che gioca in Francia. Boh, c'era nessun altro di così tanto talentuoso. La Romania è una squadra ben compatta, non ha giocatori di talento eccezionale, però è una squadra ben organizzata, ben fatta. Tralasciamo le altre squadre, tralasciamo Di Biagio, che è un tecnico... Non tralasciamolo, adesso lo teniamo fuori di nuovo, ma conteniamolo un attimo. Contro la Polonia, tu non mi puoi portare a casa una sconfitta. Perché? Perché è una nazionale di scappati di casa, e si è visto contro la Spagna, ha preso i cinque. Poi tra l'altro, a noi ci batteno, a loro. Tralasciamo anche le regole del coso, perché veramente, regole dell'europeo, che non si capisce neanche perché la Spagna è passata per prima. Ok, adesso c'è la differenza reti, ma quando stavamo a più uno di differenza reti, passavano loro comunque. Non si sa il perché, non si capisce il perché, però va bene, va bene, va bene, va bene. Non ti può permettere di perdere con la Polonia. 1-0. Bene, adesso andiamo a vedere i motivi, il perché. Ragazzi, spero che qualcuno di voi se ne sia accorto, senza che io lo vada a dire, l'Italia ha giocato col 4-3-3. Pressoché col 4-3-3. Almeno in fase di non possesso, giocavo con questo 4-3-1-2, almeno la prima partita contro la Spagna. Però, il modo lo disegnate in capo, era il 4-3-3. Te, di Biagio, ecco lo tiriamo fuori. Non mi puoi andare a giocare col 4-3-3, avendo fatto pure gli stage, maledettissimi stage. Non mi puoi andare a giocare col 4-3-3 convocandomi due esterni di ruolo, due esterni alti di ruolo. Zagnolo non lo considero un esterno alto di ruolo, lo considero più un centrocampista, un trequartista, anche una mezzala. Ala no. Ala si è visto con la Roma, fa un po' schifo. Non è che fa schifo, però non è il suo ruolo, non gioca bene, quindi lasciamolo lì. Non mi puoi andare a convocare Chiesa Orsolini. E si è visto, appunto, nella partita contro la Spagna, entro Orsolini, l'Italia inizia a giocare meglio. Ok, che avevano già pareggiato, però l'Italia inizia a macinare il gioco, inizia a macinare un'occasione da gol su occasione da gol. Poi dopo, contro la Polonia, giochiamo bene, perché abbiamo giocato bene, fin quando non si è rotto Orsolini. Appena si è rotto Orsolini è entrato, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo chi. E mi ha fatto schifo. Niente, iniziamo a tirare a caso. Boom, 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 boom. Stiamo a una pala, tiriamo, sì, 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 tira, sì, tira, tira, tira. Ma che cazzo è? È ovvio, è ovvio che la squadra non riesce a capire, non ha punti fermi, non ha persone su cui appoggiarsi. È ovvio, perché non puoi snaturare certi giocatori in certi ruoli. Contro il Belgio, invece, si è visto un'Italia che era nettamente 10 volte più forte del Belgio e si è visto solo quello. Perché tatticamente ha giocato anche meglio quando ha iniziato a giocare il Belgio. Ma tecnicamente parlando, i giocatori tra Italia e Belgio erano di un altro livello. Perché dico questo? Perché Pellegrini sembra che abbia giocato una bella partita e in realtà era in confusione. Era sempre in mezzo all'azione, non si capiva che cazzo doveva fare. E Locatelli, per lasciare perdere, per stoppare il pallone, da mediano, giocava da mediano e in un ruolo da mezzala. Mandragora, poverino, il gioco che doveva fare lui lo stava facendo Locatelli in un'altra posizione nel campo. Non sapevo che cazzo fare neanche lui. Chiesa, un po' a sinistra, non hanno aspetto a linea destra. Un po' a sinistra, non hanno aspetto a linea destra. Si capiva un cazzo, si capiva un cazzo. Cutrone si sbatteva per quello che poteva fare. Alla fine ha fatto gol e mi sono contento per il gol di Cutrone. Niccolò Barella, tra i sei che ho citato, è stato il migliore. In difesa, senza voto, tutte e quattro, forse Pezzella e chi era l'altro terzino? Scusatemi un attimo, mi sono perso l'altro terzino. Comunque Pezzella e l'altro terzino, già che non me lo ricordo, anche lui senza voto. Pezzella aveva fatto qualche cross interessante, un cross su Barella, dove Barella ha praticamente svinchiato l'occasione. Però, comunque si vedeva che il tasso tecnico era elevato. E quello che mi fa incazzare, ma veramente incazzare, io non riesco ancora a capire perché aveva convocato solo due esterni. Io vorrei che Di Biagio venisse qua, qua da me, in bussa a casa, mi dice, ho convocato due esterni perché? Mi dà le sue motivazioni e sono contentissimo. Ma fin quando non mi viene a dire perché ha convocato su due esterni, io non sono contento. Perché ce n'erano, ce n'erano, ce n'erano. Potrei prendere Brignola da Sassuolo, che, ok, va bene, non è proprio un'ala, però lo sa fare e sicuramente è meglio di Bonifazi, che non serviva un cazzo, o prendermi Ricci, che comunque non è, oh mio Dio, un giocatore fortissimo, o verde che gioca in Spagna, quello che era della Roma. Ma qualcuno che lo sappia fare il ruolo, che sicuramente era meglio di un Bonifazi che scalda panchina. Questo è, questo è il discorso, è questo che mi fa incavolare, questo è quello che non mi fa ragionare, che mi fa salire il sangue al cervello. Perché tu hai buttato un europeo Under 21 perché hai sbagliato le convocazioni, ma non si può, cioè le convocazioni sono la cosa più facile, la cosa più facile è convocare. Poi giocare un altro, perché tu ti metti giù, dici, ok, io ho questi giocatori qua, per far giocare bene questi giocatori qua, devo giocare con questo ruolo, con questo modulo qua. Bene, chi sono le altre pedine che mi mancano? E inizio a fare la convocazione. Questo è. Invece allenarli, farli giocare nell'idea che hai in testa, è più difficile. Per Di Biagio è più facile farli giocare con la sua idea che convocare. Io sono basito, scusate il video lungo, però ne sono veramente basito. Cioè, non è possibile, non è veramente concepibile una cosa del genere. Anche un bambino di tre anni ha capito sta cosa. Tranne Di Biagio. Di Biagio, no, Di Biagio deve fare sempre la solita figura di merda. E finalmente si è andato via. E per favore, assegnate la nazionale. Le nazionali giovanini, agente capace, perché assegnare la gente che non capisce un cazzo, si va su questi problemi qua. Si inizia ad avere problemi del cazzo. Problemi del cazzo. Buon raga, spero che il video vi sia piaciuto. Sono... Devo sbollirmi un attimo. E niente, vi lascio con la solita outro. Sempre. Fino alla fine. Forza You!